ciao ragazzi sono monica marigliano siamo oggi nel box crossfit picocca milano vediamo il workout del giorno allora il lavoro che dobbiamo fare oggi è run clock perciò quando noi partiremo il nostro time non si finirà più sono 15 minuti nella prima parte da 0 a 5 il nostro obiettivo sarà quello di trovare tre push press in behind the neck poi vedremo la tecnica insieme per cinque minuti poi al quinto minuto andremo a cambiare l'esercizio e il nostro obiettivo sarà quello di fare due jerk sempre in behind the neck mi raccomando la spinta uguale ma cambieremo poi l'atterraggio dei piedi vedremo ancora poi insieme la tecnica da dieci minuti al quindicesimo minuto toglieremo il bilanciere dal rack il nostro obiettivo sarà quello di trovare un power snatch il nostro le mie informazioni principali sono queste ricordatevi sì sono cinque minuti ma nei cinque minuti proprio perché sono pochi dobbiamo anche andare aumentare il carico ok lavorate bene e il secondo è quello sì di fare piccole pause ma neanche troppe perché poi cinque minuti vanno a terminare velocemente dopo i 15 minuti lavoro avremo qualche minuto di resta cioè di pausa per poi continuare con il workout del giorno che è un cash out un emom di 12 minuti sapete bene che quando lavorate con un emom avete un minuto di tempo per fare l'esercizio richiesta in questo caso noi vi diremo di fare 40 secondi il primo esercizio sono max treat pull up poi abbiamo max all of rock nel secondo minuto e per il terzo minuto abbiamo max treat alien stand push up poi vedremo insieme eventualmente i lavori in scaling è un 12 minuti finito il nostro obiettivo ora non abbiamo ancora finito prendiamo andiamo fuori a correre abbiamo un chilometro per chi se la sente chi è che è in forma per un avance può anche utilizzare una veste da 9 o da 6 kg ok ragazzi vediamo ora le informazioni per quanto riguarda la tecnica abbiamo detto che il nostro primo esercizio sono i push press il bilanciere in questo caso non sarà posizionato davanti come l'abbiamo sempre in front rack ma in behind the neck staccheremo il bilanciere dal rack la posizione dei gomiti deve essere neutra con il nostro corpo in questo modo ok la cosa importante da fare è ricordo del movimento del deep e del drive dovrà essere fatto lentamente perciò da questa posizione andremo in deep drive lentamente per poi andare in movimento esplosivo ok sul secondo il nostro saranno dei jerk sempre in behind the neck perciò la posizione è sempre la stessa il deep e il drive richiesto allo medesimo solo che noi dovremmo cambiare la posizione dei nostri piedi perciò da questa posizione andremo in deep drive lento spingiamo e stendiamo bene le spalle verso l'alto e la posizione dei piedi andrà a variare ok il terzo esercizio sono dei power snatch perciò il nostro bilanciere sarà posizionato a terra dalla posizione neutra della schiena andremo a spingere in verticale spalle e atterreremo in un quarto di squat mi raccomando spalle sempre alte sedere in fuori in ricezione per fare questo partiamo col nostro riscaldamento io vi consiglio di lavorare con un pvc prendiamo il pvc presa larga faremo dei pass trot più o meno una ventina e poi passeremo al movimento di position del bilanciere perciò il mio consiglio tecnico è quello di partire dalle anche faremo per 5 ripetizioni prima in deep dall'altissima dalla high per 5 volte poi passeremo fino alla hang perciò faremo scivolare il bilanciere sulle nostre cosce mi raccomando petto sempre bello alto il bacino in fuori e stendiamo di nuovo per poi finire con la posizione di power snatch perciò scendiamo dalle anche scendiamo fino sotto in tibia e da questa posizione spingiamo ginocchia anche stendendo completamente le nostre gambe questi sono i miei consigli tecnici di oggi vi ringrazio alla prossima enjoy